Il cielo di Natale Il cielo di Natale, e cosa vedere? Cominciamo alle 17, al crebuscolo, e andiamo avanti nel tempo. Oltre alla luna, che è sorta alle 14 e 25, cominciamo a vedere Giove. Verso sud ovest si può osservare Saturno, che tramonterà alle 21 e 31. Iniziamo a concertarci sulla luna, che tra poco sarà in fase di luna piena, tra il 26 e il 27. Ora iniziamo a zoomare sulla luna, e capiamo che è in Giove è crescente, come abbiamo già detto quasi piena. Possiamo vedere che la luna si trova nella costellazione del Toro, vicino alla sua stella Alfa, Aldebarren. È vicino alla costellazione ben visibile di Orione, seguito da Sirio e il suo cane fedele, della costellazione del cane maggiore. Giove Giove è sorta alle 12 e 20, tramonterà alle 2 e un quarto, colminando circa le 20, quindi è un vero protagonista della notte di Natale. Zoomando su Giove possiamo vedere quasi totalmente i quartosatelli di Giove. Io ero vocalisto e Ganimede. Giove è stata un'altra costellazione di Giove. Grazie a tutti.